Ad arricchire l'inaugurazione del Natale Gentile, che si è svolta sabato 8 dicembre in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, c'era anche la Natività, una rappresentazione della Natività di Gesù attraverso una coreografia di sede e dimensione umana. Le statue situate sul Corso Garibaldi sono a cura dell'associazione Il Carro. Innanzitutto armiamoci di cappotto perché fa un po' freddo, ma questo non ci deve scoraggiare, perché la serata comunque è molto bella, il percorso da fare per diventare elfi, e qui bisogna farlo il percorso, sarà molto simpatico, divertente e quando poi al castello terminato il percorso, dopo aver visitato la casa di Babbo Natale, vedrete programati elfi, sarà ancora più bella la giornata. A parte gli scherzi, sono le 5, sono tante persone in movimento, tanti bambini che stanno arrivando, ci auguriamo veramente che abbia il successo che noi abbiamo programmato questo evento, siamo sicuri però che soprattutto un successo l'abbiamo avuto, quello di mettere insieme e di costruire una sinergia tra amministrazione comunale, commercianti, operatori, questo è già un primo successo perché crea un clima, secondo me, diverso, un entusiasmo che deriva dalla collaborazione che sarà, io mi auguro, soltanto l'inizio di una serie di progetti che faremo insieme. Ecco, questo è già un primo risultato a oggi e poi ci aggiorneremo per il futuro, sono sicuro potremo anche contare tanta gente che viene qua ad Agropoli e quindi completare il successo che noi veramente ci aspettiamo. Si rinnova questa bellissima tradizione, d'altra parte il Natale è magico, ad Agropoli da anni, si cerca di viverlo nell'armonia più festosa possibile, con le luci e quest'anno si è arricchito anche della natività in piazza, quindi l'amministrazione con l'associazione Il Carro, con i commercianti che si sono dati da fare, hanno cercato di dare, insomma, vivacità e un'atmosfera nuova a questo periodo natalizio. Ci auguriamo che sia un Natale sereno per tutte le famiglie, che ci sia un periodo di festa, che ci sia una ripresa economica, ci sono tante difficoltà, però queste sono le occasioni per una ripresa, per una ringorsa, per una serenità, per uno stato d'animo diverso. Ogni anno cerchiamo di prendere un po' di coraggio in più ed è bello ritrovarsi così per le vie cittadine, rincontrarsi, stringersi la mano e scambiarsi qualche sorriso.